ciao a tutti ragazzi come state? voi bene? io non ho questi capelli di questa roba anzi è un altro pomeriggio da farmi i capelli a parte le cazzate parliamo oggi facciamo un due in uno come video oggi parliamo soprattutto del caso van de putte che comunque sono già state alcune voci ma anche conferme arrivo subito nel dettaglio e poi parliamo ovviamente del prepartita prima cosa però vi chiedo like condivisione commentate condividete iscrizione al canale campanella questo video farò come l'altra volta io chiederò un'opinione anche al canale a gamba tesa combat vi chiedo quindi di andare a seguirvi anche allora lasciarli un bel like una bella iscrizione ci fareste un piacere comunque per entrambi niente io direi subito cominciare con il video allora signori miei io partirei quasi quasi dall'inizio e intendo inizio come campagna estiva in cui facciamo la premessa innanzitutto van de putte è il nostro giocatore e aveva rinnovato l'anno scorso mi sembra dovrei controllare ma comunque aveva rinnovato con noi quindi niente dopo la grande la grande annata della stagione in cui lui ha fatto mi sembra dieci gol e venti assist per un esterno ricordate non si era paragonato con il discorso di de bruin però comunque a dire di questo ha fatto parlare di sé chi ne aveva già messo gli occhi addosso era l'udinese all'epoca prima dell'udinese van de putte aveva un se ma voglio di mercato attorno ai 900 mila euro con la promozione siamo arrivati su un milione milione e due e ora sinceramente ora non so dovrei controllare comunque ho mai perso le quotazioni siano belle alte anche perché in questi sei mesi di andata ha fatto ancora bene altri assist altri gol il più decisivo il più importante per il nostro Catanzaro sappiamo il valore di Mello ma io vi dico che van de putte ha ancora di più van de putte quel giocatore comunque ti crea superiorità numerica oltre agli assist e gol quindi comunque è un giocatore che va sempre raddoppiato che dagli due occhi in più non solo uno quindi è molto fondamentale per noi è ambito da dalla serie b chi comunque appunto a inizio estate aveva messo gli occhi il la cara udinese poi non si fece più niente qualche giorno fa o anche direi settimana fa c'è stato il discorso del gruppo city del palermo apparemmo che giustamente vuole costruire una corazzata con tutto quello che ha con chi ha le spalle può assolutamente farlo sapevo però e qui ho preso un po di spunti di appunti ecco che il giocatore ha avuto un nuovo agente ha cambiato agente insomma e si chiama pisacane laggo insieme a voi il nuovo agente di van de putte può fare il salto di qualità a bocce ferme decideremo il da farsi quindi comunque insomma c'è stata qualche indiscrezione quindi tra i giocatori che si stanno ritagliando un grande spazio e una vetrina di tutto rispetto per mettersi il risalto in questa serie b c'è ovviamente gli arrivano i putte come detto il fantasista del catanzaro è uno dei giocatori più interessati di tutta la cadetteria anzi siamo all'occhio di tutti effettivamente e lo sa anche vincenzo pisacane ceo della jeve sport e management che da qualche giorno cura gli interessi del centrocampista del catanzaro come appunto vi stavo dicendo intervistato da tuttomercato.web ha rilasciato qualche dichiarazione proprio su van de putte ecco le sue parole della gente van de putte è un giocatore che ha dimostrato di essere importante in tutte le categorie lo sappiamo abbiamo scelto di rappresentarlo perché convinti che possa fare il salto di qualità è vero ora vi parlerò anche di questo i numeri parlano per lui abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con il catanzaro e quindi ci siederemo insieme a bocce ferme decideremo di farsi è normale ambire a qualcosa di importante e sono d'accordo e se ci sarà possibilità sarà giusto coglierla di concerto con il club palermo a gennaio questo era un punto di domanda però attualmente non si è fatto niente non posso parlare perché non lo presentavamo ancora infatti vi ho detto poco anzi che aveva cambiato a management gli ari di continua a dimostrare ciò che sta facendo l'ho visto carico e concentrato se continua così può davvero essere bravo a di fuori del campo allora vi parlo sotto aspetto giocatore e aspetto società e tifoso sotto aspetto giocatore ragazzi gli ari a noi come posso dire è come se fossimo in debito cioè ha fatto tanto di più e oltre ha dimostrato tutte di più tutte di più ripeto per me è il mio giocatore preferito quello che ha dimostrato in c non c'è bisogno di dirlo quello che sta facendo ora non c'è bisogno di dirlo partiamo con l'età l'età lui è un'età matura di tutti i giocatori tra i 27 e 28 anni l'ha fatti ora 28 anni come giustamente dicevo per Panos che è ancora più giovane che per lui giustamente ha fatto la sua strada magari ha avuto un salto in qualità cosa che a quell'età lì non era successo a Van de Putt ma per come sono arrivate le sue grande come si dice le grandi prestazioni è venuto fuori ora nel pieno della maturità appunto quindi è normale che sia ambito è normale che sia voluto cercato ed è normale che anche di parte sua magari non di cambiare area però di provare un qualcosa di ancora più qualcosa di nuovo che possa sicuro portarlo in altri ambiti in avanti l'aspetto del tifoso se parlo da egoista io Van de Putt lo vorrei sempre sempre e soltanto sempre perché sennò qual è il discorso è inutile creare una grande squadra lavoracci attorno 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 per poi dare via ai miglior gioielli posso capire un Cazzeris che magari un terzino in ogni modo riesce a trovarlo o uno che spinge da fascia più o meno riesce a trovarlo un fantasista golador assist man come lui non lo trovi non lo trovi è veramente difficile specialmente anche con l'età di matura che ha quindi con l'esperienza e quindi da parte mia io vorrei non tenerlo di più però capisco che se vuole andare via è normale e che altro la società la società potrebbe essere in un limbo nel senso che potrebbe far meno di lui ma non può far meno di lui secondo me poi magari con i buoni rapporti trattenerlo con i buoni rapporti non trattenerlo come posso dire può essere sia giusto che sbagliato in ogni tematica ecco è difficile da vedere su una cosa però sono sicuro e questo l'avevo già pensato giorni fa io questo video dovevo farlo uscire qualche giorno fa però ero indeciso perché magari chiacchiere pettegolezzi qualcosa che non era sicuro che si sapeva non c'era nessuna percentuale non c'era nessuna cosa diciamo dichiarata invece una cosa la sapevo lo seguo sui social e una cosa che mi ha fatto pensare che magari poteva rimanere con noi è il fatto che innanzitutto si è sposata mi sembra da poco la famiglia conta tanto lei dovrebbe essere calabrese la moglie si è sposata da poco e credo che sia incinta quindi c'è di mezzo non solo un matrimonio ma c'è proprio una famiglia di mezzo quindi anche le scelte di cambiare città non si sa comunque dove non era deciso niente che sia stata Udine, che sia stata Palermo insomma cambiare comunque vita quindi c'è di mezzo tante decisioni da scegliere e quindi secondo me ho pensato ma aspettiamo a fare così perché secondo me lui potrebbe anche decidere di rimanere sotto certi aspetti gli è arrivata una conferma quindi era un piccolo caso van de punten però ne andava parlato perché era abbastanza importante come cosa ieri però è arrivata la conferma del signor Magalini vi dico due righe che ha detto Giuseppe Magalini, direttore sportivo dell'OS Catanzaro dichiaro l'area è un cacciatore su cui il Catanzaro punta anche per il futuro e posso confermare che l'abbiamo blindato ed è giusto che i tifosi Catanzaro lo sappiano e soprattutto che comprenderemo comprendano scusate che da qui è una società seria che vuole fare le cose per bene migliorandosi sempre la chiudo qui questo era il discorso che vi sto facendo poc'anzi mi fa piacere ciò perché vuol dire che Catanzaro allora ha veramente grandi cose grandi cose come vi dico sempre sappiamo che non ha una grande potenza finanziaria però quantomeno sull'aspetto del gruppo della famiglia del progetto che c'è dietro è molto allettante questo Catanzaro e perché vi dico anche vi ho sempre detto anche all'inizio prima ci salviamo meglio è perché poi potremmo esprimere meglio le nostre il nostro gioco e a seconda di come ci piazziamo anche in gradatoria di classifica è una vetrina è una vetrina ed è un biglietto alla vista per un mercato futuro nostro già il fatto di blindare gli ari vuol dire veramente questo è un grande tassello questo è un grande colpo di mercato oserei dire è un grande tassello io se non sbaglio credo che il rinnovo di contratto sia per il 2026-27 quindi comunque arriva ai 30-31 anni nel piano della maturità poi solitamente un calciatore a parte Giroud, Dzeko e Ibra gente così e Ronaldo quando superano comunque i 32 anni tendono comunque a calare però magari con l'età moderna di oggi la sticciola si è anche alzata però il suo ruolo comunque deve correre quindi al di là di ciò per almeno 3-4 anni potremo avere le sue doti sempre con noi poi i contratti si è blindato però se arriva veramente un qualcosa di faraonico veramente un'occasione una grande squadra trattenere sempre difficile però al momento come vi ho detto solo me c'è di mezzo anche la famiglia c'è di mezzo tutto l'OS Calanzaro c'è di mezzo che sta bene perché comunque in altre piazze non si è trovato bene se non sbaglio veniva da Vicenza e ha avuto qualche problemi tanti l'anno scorso dicevano eh van de putte va bene solo per la Serie C in Serie B non se l'è cacato nessuno ha fatto schifo lo dicevano tanti l'anno scorso ma era troppo quello che faceva per credere a una cavolata del genere e infatti i risultati riparano da sé cioè sta facendo un grande campionato quindi complimenti alla società che ha fatto un grande colpo va detto questo è un modo a far dire anche ad altri giocatori sia a chi già abbiamo il rosa che e che magari speriamo di comprare un po' più avanti come è successo con Petriccione non so se avete visto l'intervista io sono un giocatore che mi sento alla Serie B ha dichiarato quando è arrivata la chiamata di Catanzaro io comunque ero in C ok capitano del Crotone però chiamata veramente allettante quindi non ho saputo dire di no è quello che per Iari sia la solita cosa una piazza in cui si sente bene sta bene e niente ragazzi di tutto ciò io spero veramente di fare questi play off eh ma vi ripeto non per essere in Serie A ma per fare il salto di qualità per quanto riguarda l'esperienza lo so che è brutto dillo ragazzi per qualcuno di voi sembrava assurdo non vuole andare in Serie A se magari andiamo ai play off però è una cosa che ci brucerebbe secondo me ci brucia troppo in anticipo bisogna lavorare con calma eh avere le idee chiare e vi faccio un paragone di Serie A con il Napoli il vecchio Napoli ve lo ricordate il primo Napoli di Mazzari aveva Lavezzi aveva Cavani aveva Amsic tutti i giocatori che poi una certa ha dovuto vendere PSG PSG di nuovo eh insomma tanti giocatori su cui mi sono passati però ha fatto cassa è cresciuto e poi l'anno scorso ha avuto ha avuto lo scudetto magari noi possiamo fare una cosa del genere è ovvio che Yari van de putte va tenuto il più forte eh però attorno farsi un'idea costruirsi per un domani ancora esperienze in B e poi un domani spiccare il volo veramente secondo me non c'è non è tanto male come idea innanzitutto impariamo ad adeguarci a questa Serie B perché è difficile ogni partita è a sé lo sappiamo lo stiamo imparando e dobbiamo impararlo anche noi tifosi perché non siamo imparati sulla Serie B quindi dobbiamo imparare io stesso per primo quindi questo è stato un caso di qualche settimana e vuoi ci sono stati il manager mentre l'aveva cambiato ovviamente i procuratori tendono anche a sé ma questo ormai è il mandato di fatto c'è comunque i soldi di mezzo però è andato tutto su quello che vogliamo noi noi tifosi società giocatore sono sicuro di questo e niente è bene così allora ragazzi passiamo ora al prepartita scusate è durato anche tanto vi dirà la vostra anche bad di a gamba tesa vi lascio poi il link di iscrizione qua sotto andatevi a iscrivervi partiamo allora signori Catanzaro Sutil riaffrontiamo una squadra che anch'essa ha cambiato allenatore io penso che fra tutti siamo andati in pochi a tenere il suo allenatore noi Pecchia del Parma quanti? cioè cominciamo ad essere abbastanza pochi è perché anche il Sutro l'ha cambiato il Lecco il Lecco è arrivato al terzo allenatore che ha preso Iachini mi sembra non lo so il Lecco è stato troppo penalizzato da inizio stagione che non sapeva se fare un mercato da Serie B o da Serie C non ha fatto nessun mercato e questo è il risultato allora andiamo a vedere insieme andiamo a vedere insieme andiamo a vedere insieme ricordo che giochiamo domani alle 16 e un quarto prendiamo l'ultima del su Tirol vediamo insieme a voi appena la trovo poi magari se riesco a trovarlo niente non la trovo più eccolo qua vediamo un po' eccovi una delle ultime partite è stato con Poluzzi Masiello Scaglia Giorgini Arrigoni Taita Casiraghi Davi Odogo e Merkai ora è una squadra tosta ostica anche loro fanno un po' un calcio un po' interrompere questo calcio però secondo me si è creato di nuovo un piccolo entusiasmo secondo me ora con testa alta con testa sicura no testa alta testa sicura mi ripiacerebbe la vittoria sì anche perché siamo a un passo della salvezza ma mi basta non perdere sinceramente comunque perdere ora in casa sarebbe un po' un po' me secondo me bisogna sfruttare ora il chiodo che è caldo va battuto bello forte cosa ci può dare? 41 punti questa vittoria una vittoria che fa morale soprattutto per una cosa fra poco c'è il derby a marzo c'è il derby e stavolta andiamo a Cosenza e sarà difficile come è partita eh Tutino ha dichiarato che vuole portare Cosenza dove gli spetta giustamente il bomber è forte con me è giusto che lo dica quindi io dico che ci vuole questa vittoria molto fondamentale per avere la mente ancora più libera di affrontare un derby e far capire veramente chi è Catanzaro e dove spetta questo Catanzaro boh speriamo di vincere ora possiamo fare tanti esperimenti abbiamo più possibilità il mister ha visto e credo abbia capito che in alcune partite si può fare il nostro gioco e in alcune partite non si può fare il nostro gioco o quantomeno modificarlo in modo drastico durante la partita e niente questo è quanto ragazzi niente ben così per vande putte speriamo per punti quantomeno contro Zutirol non la sconfitta perché contro poi c'è il derby ho paura già mica con mano come si dice come in Toscala niente ragazzi vi lascio poi alle dichiarazioni a gamba tesa che penso saranno per domani poi magari vi aggiungo su uno short e vi faccio sapere e niente ragazzi like video lunghissimo like condivisione commentate condividete iscrizione fondamentale importantissimo campanello se non vi dimenticate niente dei miei contenuti e non mi ricordo più forza acqua ciao ragazzi